La pasticceria è cuore, scienza e ovviamente tanta tecnica. Io sono Luca Montersino e sono il vostro insegnante di pasticceria in Club Academy. Sono nato a Torino e faccio questo mestiere da quando avevo l'età di 13 anni, alternandomi tra cucina e pasticceria, perché sono entrambe le mie passioni, anche perché non riesco a trovare distinzioni tra i due mestieri. Secondo me tutte e due hanno bisogno di creatività, di tecnica, di conoscenza e di tanto studio e quindi scambiano solo ingredienti, da dolce a salato. Ho dedicato tantissimi anni alla pasticceria specializzandomi in questo settore ed eccomi qua a farvi lezioni. Potrete partecipare a nove lezioni di pasticceria, partendo naturalmente dalle basi, perché se non si conoscono le basi in pasticceria non si può andare avanti. E quindi studieremo gli ingredienti, le attrezzature, perché i ferri fanno il maestro. Il primo corso sarà dedicato agli impasti di base, il secondo corso alle creme di base e il terzo corso alle creme derivate, ai croccanti e agli insaporitori. Per poi partire con il quarto, il quinto, fino ad arrivare all'ottavo corso dedicato alle torte cremose, alle crostate, alla biscotteria, alla pasticceria mignon, fino a chiudere con il nono corso dedicato alla pasticceria salata. In Kled Academy è importante scoprire gli ingredienti, la loro funzione, le loro reazioni chimico-fisiche, perché la pasticceria è una scienza perfetta. Ma è altresì importante scoprire i macchinari, le attrezzature, perché i ferri fanno il maestro. Come si suol dire, non si può fare una ricetta professionale se non si ha conoscenza di tecniche e attrezzature. Sono Luca Montersino e vi porto con me in Kled Academy. Grazie. Grazie.